In questo Vangelo mi colpisce una cosa, la parola subito. Quando Gesù passa e vide i fratelli Simone, Pietro e Andrea, lui li guardò, loro erano pescatori, e gli dice venite, ed essi subito lasciarono le reti. Allora, questo mi colpisce perché la velocità con cui gli apostoli, che non sono ancora apostoli, cioè le persone, i pescatori che sono lì, seguono Gesù è impressionante, fa impressione. Cioè non è che stanno lì degli anni a fare corsi di teologia, loro si innamorano, vengono attratti da qualcosa che c'è in quegli occhi, in quello sguardo, e bam, cambiano la loro esistenza, in un istante, in un micro istante. Allora, la domanda per noi forse è, quante volte Gesù ci passa accanto mentre noi lavoriamo le nostre reti, facciamo i nostri lavori quotidiani, e magari dovremo subito andare con Lui, ma non andiamo dietro di Lui? Chi è nella nostra vita Gesù che ci passa accanto? Allora forse bisogna stare attenti ciascuno di noi alla realtà che ci sta intorno, delle persone che ci stanno intorno, degli incontri, dove veniamo richiamati da qualcosa che ci dice di cambiare vita, di essere vivi, di rimanere vivi, perché il Signore dei Cieli non ci abbandona mai. E nella realtà ci manda continui segnali, per esempio nei poveri. I poveri sono i segnali più eclatanti, infatti le grandi conversioni, pensiamo a San Francesco con il Lebroso, pensiamo a Madre Teresa di Calcutta, avvengono le grandi conversioni quando ci si impatta con la povertà. E lì c'è la carne di Cristo. Allora quante volte, con questa domanda ci lasciamo, quante volte vediamo per esempio una persona povera, bisognosa e passiamo oltre?